Segni che una donna sposata ti vuole. Come capire se piaci a una donna sposata? Allora, ci sono dei segnali che tu piaci a una donna sposata. Devi capire però, diciamo, alcune cose. Prima e intanto iscriviti al canale, ovviamente attiva la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video, seguimi su Instagram, YouTube, tutti i canali YouTube, Instagram Massimo Tremasco Ufficiale, seguimi su TikTok e veniamo al tema. Allora, intanto il mio consiglio agli uomini è di non innamorarsi mai di una donna sposata. Questo è il consiglio che do anche il donno. Non innamorarti mai, talpio trombatela. Punto. Questo è il punto fondamentale. Mai. E poi mai innamorarsi di una donna sposata, fidanzata, imprendita. Mai. Vedila eventualmente come uno svuotamento. Vedila eventualmente come uno scaricamento. Ma mai innamorarsi. Perché non ha senso farsi coinvolgere emotivamente da una persona che ha già una relazione. Perché significa non amare se stessi. Significa non rispettare se stessi. Quindi non devi mai e poi mai farti coinvolgere da una persona impegnata. Men che meno ti suggerisco di coinvolgerti con una donna che è in fase di rottura, che è in fase di problemi, questo è un caso fondamentale, con il fidanzato o il marito. Mai e poi mai. Perché una che ha dei problemi e che sta militando di lasciare la persona, se tu, tu, quello che devi dire in questi casi specifici è, beh, quando sarai completamente libera, vedremo da farsi, vedremo cosa succederà. Quando ti sarai divorziato, quando ti sarai separato. Insomma, questo è fondamentale. Perché altrimenti rischi di essere accusato da... Lei ti scaricherà e dirà, eh, perché quello mi ha sedotta, bla bla bla, e ti scarica addosso la merda. Dall'altra parte il marito ce la va con te. Insomma, entri in una situazione di merda, fondamentalmente. E verrai, certo, magari prenderà te come motivazione per lasciare il marito, ma questo non è che poi è una roba positiva per te. Anzi, direi che è una roba estremamente negativa. Quindi cerca assolutamente di evitare... di evitare come la peste, diciamo, situazioni di questo genere. Vanno evitate come la peste, come la peste. Quindi queste due cose devi tenerle presente. Ecco, quindi questi sono i due consigli che ti suggerisco di non avere una relazione con una persona sposata, anche se è disponibile, se però vive queste due condizioni. Uno, che ti stai coinvolgendo, devi scappare subito. Due, che quella si sta separando, perché debiterà a te la colpa poi, in qualche modo, sia te che il marito. Quindi entrerai in situazioni di merda. Invece, quando una è, tra virgolette, felicemente sposata, o comunque, insomma, ha voglia di viversi una trasgressione, ma ama il marito, vuole stare col marito, non ha necessità di... allora come trasgressione può andare bene. E ci sono donne che mandano segnali che nonostante, diciamo, stiano bene col marito, nel senso della relazione, non hanno problemi a tradirlo. Allora ti puoi ogni tanto portarla il giovedì sera al parcheggio del cimitero, tra virgolette. Come capire? Beh, lo capisci in diversi modi. Intanto, se ovviamente queste cose avvengono normalmente nei luoghi di lavoro, fondamentalmente, le conoscenze o nei circoli, nelle cose, difficilmente una per strada. Cioè, una donna sposata tradisce il marito con chi conosce, fondamentalmente. Beh, potrebbe essere una serata in discoteca in cui è così, però normalmente queste relazioni avvengono in ambienti dove si conosce. Quindi, beh, noti delle differenze di comportamento. Ti sta più vicina, cerca di parlarti di più, fa un po' più la zoccola, si veste un po' più, in modo più trasgressivo. Se tu parla della sua relazione, ti parla del rapporto con il suo marito, perché te ne parla, una sposata che non lo lasciate, te ne parla. E dirà, mio marito è un bravo uomo, mio marito qua, mio marito là. Poi ti dirà, peccato che la passione è finita, peccato che qua e là. E quello, praticamente, come dire, è un invito a nozze, insomma. Nel momento in cui ti dice, io sto bene con mio marito, è un bravo uomo, è una persona, però la passione è finita, qua e là, eccetera, eccetera, vuol dire che vuol trombare. Poi tu puoi mandare dei segnali, no? Buttare lì la frase, ma hai mai pensato ad un amante? Buttare lì la frase. Sai, si tocca le labbra, in risposta viene avanti, saccarezza i capelli, o quello che è, è un altro segnale. E allora puoi, diciamo, buttare lì delle frasi. Dai, perché non andiamo a prenderci un caffè? Però, guarda, no, è meglio che vieni a casa mia, perché, sai, farti vedere in giro e è rischioso, se poi tuo marito ti sgama, beh, già, se ti dice di sì, con una scusa la inviti, non per scopare, gli dici, beh, non so, per vedere la collezione di farfalle, qualcosa del genere, insomma, con una scusa la butti lì. Oppure, butti lì delle frasi, ah, mi piacerebbe proprio avere una relazione libera, senza impegni, senza vincoli. Se noti un segnale di gradimento, anche qua, mordicchiamento del labbro, soprattutto mordicchiamento del labbro superiore, perché il labbro superiore è il mordicchiamento, diciamo, è quello che riguarda più il gradimento da un punto di vista fisico, più il gradimento da un punto di vista sessuale. Quindi, queste cose sono molto utili, il labbro superiore, perché ti dà la possibilità, diciamo, di sviluppare, diciamo così, delle cose importanti, delle cose fondamentali, ti dà la possibilità di ottenere dei risultati da questo punto di vista. Quindi, sono tutte situazioni interessanti, quindi guarda molto l'analogico. E poi, una volta che hai ricevuto due o tre segnali, fai subito un invito in una situazione, diciamo, che può essere in qualche luogo trasgressivo, ad esempio, tra la volta potrebbe anche andare bene al cinema, potresti, perché al cinema già puoi pomiciare un po' per capire, no? se lei parla di cinema, mi piacerebbe andare una sera al cinema, se lei ti dà dei segnali, insomma, però, vabbè, dai, vediamoci direttamente lì, insomma, far vedere da subito che vuoi mantenere la riservatezza. E questo è fondamentale, perché almeno lei non ha paura che tu rompa i maroni, poi fondamentalmente. ecco, quindi, e poi, insomma, già lì, insomma, al cinema, vedi come viene vestito, insomma, si può già fare degli approcci, insomma, anche un po' in profondità. Non devi stare a perdere tempo e innamorarti, questo è assolutamente vietato. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E mi raccomando, fai donazioni al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. E per questo video è tutto!